E' stata trasmessa alla Regione la strategia di sviluppo urbano sostenibile, approvata dai cinque comuni partner di Agenda Urbana, riunitisi a Marsala. I commissari straordinari Salvatore Caccamo di Castelvetrano e Francesco Messineo di Trapani, nonché il sindaco di Erice Danila Toscana e l'assessore Vito Ballatore di Mazzara e infine naturalmente il sindaco Alberto di Girolamo e l'assessore Rino Passalacqua hanno così dato seguito alle dichiarazioni di ammissibilità dell'autorità urbana da parte del Dipartimento della Programmazione. Un adempimento molto importante che permetterà di proseguire l'iter per il finanziamento delle azioni programmate in Agenda Urbana su quattro obiettivi tematici, Agenda Digitale, Inclusione Sociale, Energia Sostenibile e Qualità della Vita, Cambiamento Climatico, Prevenzione e Gestione dei Rischi. Grazie.